Una giornata per guidare le imprese sulla strada della digitalizzazione è quella organizzata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi a Palazzo Turati a Milano attraverso conferenze e workshop e una serie di corner dove avere informazioni e attivare strumenti digitali quali fatturazione elettronica, firma digitale wireless o SPID, soluzione quest'ultima che consente con un'unica identità digitale di accedere a tutti i servizi online della pubblica e amministrazione. L'imprenditore è una persona soprattutto in Italia che ha una focalizzazione sul business, un'azienda molto spesso di piccole dimensioni e deve convincersi che ha un beneficio. L'intenzione è quella di cercare di cogliere i più intraprendenti nel settore digitale, che aprano la strada e dimostrino agli altri che le cose funzionino. Le camere di commercio presentano il nuovo strumento di identità digitale. Il token Bluetooth è assolutamente una novità, mantenendo il massimo livello di sicurezza. Ho uno strumento compatibile anche con le attività tradizionali, ha comunque una porta USB, ma anche un dispositivo smart e intelligente, lo tengo in tasca, lo tengo in borsa e lo utilizzo dal mio smartphone con un'app che non solo è lo strumento che mi permette di gestire la mia identità digitale, firmare, autenticarmi, ma mi dà anche immediatamente l'accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione.